E' l'ingrede perché sono poco sopra il mezzo, via! Partiti! In vantaggio Cleofan davanti a Spirit Dream, Aurelio il Grande, Pattaglia, Bolbari, Punta di Diamante, Demeteor e Ratmaschi. Dopo 300 metri di corsa si assesta al comando Cleofan davanti a Aurelio il Grande, Spirit Dream, Pattaglia, Bolbari, Punta di Diamante, Demeteor e Ratmaschi. Prosegue in vantaggio Cleofan nei confronti di Aurelio il Grande, Spirit Dream, Pattaglia, Bolbari, Punta di Diamante, Demeteor e Ratmaschi. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Cleofan davanti ad Aurelio il Grande, Pattaglia, Spirit Dream, Bolbari, Punta di Diamante, Demeteor e Ratmaschi. Poco prima dell'ingresso in vantaggio in vantaggio Cleofan davanti a Aurelio il Grande, Pattaglia e Spirit Dream. I cavalli entrano in vantaggio in vantaggio lungo la corda davanti a Aurelio il Grande, Battaglia, Bolbari, Spirit Dream, Punta di Diamante e Ratmaschi. In vantaggio lungo la corda Cleofan davanti a Pattaglia, Aurelio il Grande, Bolbari a centropista, Punta di Diamante e Demeteor. Si avvantaggia Cleofan davanti a Pattaglia, Spirit Dream, Bolbari, Aurelio il Grande e Demeteor. E' facilissimo Cleofan davanti al compagno di colori Pattaglia, Terzo Lontano e Spirit Dream davanti a Demeteor. Grazie. 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 Grazie.